Ospedale di Pescara, basta ritardi, è urgente la qualifica di DEA, Dipartimento Emergenza Accettazione di Secondo Livello. Tuttora l'Abruzzo è l'unica regione appunto senza il DEA di Secondo Livello. Una vera e propria protesta dell'Associazione Nuova Pescara che nel corso di una conferenza step ha argomentato con dovizia di particolari il cuore del problema. Il DEA di Secondo Livello, in estrema sintesi, che cos'è, dottor Ciovani? Un dipartimento, un gruppo di reparti finalizzati alla risoluzione di alta complessità di medicina, quindi casi molto critici, multiorgano, politraumi, che per l'80% nell'adulto e per il 100% in enta pediatrica, 0-18, già vengono portati all'ospedale di Pescara da tutta la regione. Quindi è de facto un esercizio di DEA di Secondo Livello, però non formalizzato. L'Associazione Nuova Pescara denuncia, ma nel contempo propone un paio di soluzioni. Una riguarda il taglio dei confini delle ASL. Carlo Costantini. L'altra? L'altra, la revisione delle circoscrizioni provinciali. Oggi ci sono confini inutili ed incomprensibili tra due ospedali che distanziano tra loro 13-14 km, tra due ASL separate che non riescono a dialogare. L'eletto in Consiglio regionale, in un ambito territoriale molto ristretto, inevitabilmente consuma il suo mandato nella difesa strenue, a volte irrazionale, del proprio piccolo territorio. Però purtroppo la verità è che la sommatoria della difesa di interessi individuali producono sfascio. Questa è la dimostrazione lampante che il cittadino purtroppo non è al centro del progetto. Assolutamente ed è il vero problema che noi abbiamo in Abruzzo. Cioè si programma, si programmano le strutture, si programmano i territori, ma il cittadino non è il cuore pulsante del programma, non è il cuore pulsante del progetto. E questo significa che perdiamo appeal, perdiamo tecnologie, perdiamo investimenti, per cui spesso e volentieri i nostri cittadini sono obbligati a rivolgersi fuori regione. I numeri indicano Pescara. Pescara che in Italia è il tredicesimo ospedale per accessi al pronto soccorso. Sì, la ringrazio perché è proprio così. Che cosa significa leggere i numeri e non leggere come trofeo politico? Significa che per giustificare gli altissimi costi che ha un reparto ad alta intensità è necessaria un'adeguata casistica, perché non posso creare un centro tra piante all'ospedale di Castel di Sangro, non c'è la casistica.